Si parte con questa avventura estiva, perché capita in un periodo particolare, non solo per il Covid, ma anche perché c'è l'estate di mezzo. Sarà una campagna elettorale diversa, ma forse anche per questo più affascinante. Sicuramente non eravamo abituati a fare gli avvi delle campagne elettorali con il caldo a inizio luglio. E questa è anche una conseguenza del lockdown, dell'emergenza Covid che abbiamo passato in questi mesi. Però siamo rincuorati da una partecipazione straordinaria in questa piazza San Domenico, che è ricca anche simbologicamente di significato per Arezzo e per gli Aretini. Siamo qui con un'alleanza molto ampia, civica e politica a sostegno di Luciano Ralli per riconquistare la città, il governo della città e dare a questa città una prospettiva nuova, ampia e europea. Di vista invece delle liste che poi definitivamente sosterranno questo progetto, che tempi ci sono? Mi sembra che il perimetro dell'alleanza a sostegno di Luciano Ralli sia sostanzialmente quasi definito. È giusto però mantenere aperte ancora un po' le porte perché so che sta crescendo fortemente l'interesse nei confronti di Luciano e quindi quotidianamente ci sono sempre più soggetti, realtà che si avvicinano. Noi cerchiamo di dare spazio e cercare di includere tutti in questo progetto nuovo di rinnovamento, cambiamento e di rigenerazione complessiva, etica, politica e culturale del nostro capoluogo, della città di Arezzo.